31 marzo, quando sarai in armonia con la vita, scoprirai di essere in grado di fare ogni cosa al momento giusto. Per armonizzarti non devi fare altro che soffermarti in silenzio per entrare in contatto con me. Ecco perché questi momenti di pace e di silenzio sono per te di importanza vitale, molto più di quanto pensi. Uno strumento musicale, se non accordato, è fonte di disarmonia. Lo stesso accade per te. Uno strumento musicale deve rimanere accordato anche tu e ciò può accadere solo se dedichi un po' di tempo al silenzio. Non è possibile se ti agiti in tutte le direzioni, così come uno strumento musicale non può essere accordato mentre lo si sta suonando. Le note possono essere udite e ritoccate solo nel silenzio. E' nel silenzio che puoi udire la mia tenue e quieta voce e che io posso dirti che fare. Parla Signore, parlaci ancora. 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 Parla Signore, parlaci ancora.